Venerdì 24 marzo 2017, 83esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda Sant'Attilio. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Attilio, Attilia e Diego. Accadde oggi. Il 24 marzo del 1973 viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l'album più venduto dei Pink Floyd, che rimane per ben 723 settimane consecutive nella top 200 degli Stati Uniti. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il drammaturgo e premio Nobel Dario Fo, nato a San Giano il 24 marzo 1926.